Siamo sempre per conto di Italian Friend, ecco, sono arrivati tutti i figuranti una cosa molto bella un evento del 26 dicembre 2018 verso l'altro villaggio, ai piedi del castello con questa una panoramica di tutto l'evento si sono ritrovati in un punto di arrivo ci stanno tutti i figuranti, sono centinaia di figuranti un evento molto bello che si ripeterà in tutto e per tutto ci sono anche i cavalli vediamo in lontananza Federico secondo di Svevia, in occasione del suo compleanno oggi giocolieri, tutto completo veramente una bella organizzazione vi invito a venire nei prossimi anni che faranno tante di queste manifestazioni molto molto belle sbandieratori meritano veramente un applauso alla gente che sta vedendo sta applaudendo buona giornata a tutti uno spettacolo veramente incredibile benvenuti al compleanno di Federico II vi faccio un grandissimo applauso benvenuti a tutti intanto prima